Sindaci della Regina pronti a scendere in piazza per far sentire la voce del territorio lariano e ribadire l'importanza della variante della Tremezzina, opera fondamentale ma perennemente in bilico. Pensavamo di essere finalmente su un treno in corsa, ora invece scopriamo di non essere mai saliti su quel treno e che anzi rischiamo ancora una volta di perderlo, commenta con rassegnazione il sindaco di Argenio Roberto De Angeli. Siamo pronti ad aderire a qualsiasi manifestazione che possa smuovere questo stallo, aggiunge Ivone Mandelli, primo cittadino di Sala Comacina. Dopo le ultime docce gelate e del resto sul lago è passato l'entusiasmo per l'inserimento della variante della Tremezzina nello sblocca Italia. La Commissione Ambiente infatti ha bocciato l'emendamento del deputato leghista Nicola Molteni nel quale si chiedeva di differire la scadenza del 30 agosto 2015 per l'apertura del cantiere. Una scadenza che rende irrealizzabile la variante secondo il governatore Lombardo Roberto Maroni che considera insufficiente anche lo stanziamento governativo di 210 milioni, in pratica due terzi di quanto necessario. I politici comaschi però non hanno intenzione di demordere. Mentre in regione i consiglieri spingeranno per far inserire nel bilancio i fondi mancanti, a Roma Molteni ripresenterà l'emendamento direttamente in aula. Intanto il parlamentare del PD e sindaco di Tremezzina Mauro Guerra cerca di tranquillizzare colleghi e abitanti lariani. Non è cambiato nulla, spiega, perché il governo dovrà scrivere un decreto per la Tremezzina nel quale verrà spiegato cosa si intende per cantierabilità e in cui la sede conclude ci saranno margini di manovra. Sul lago però la delusione è grande. Sembra che tutti siano impegnati solo a mettere i bastoni tra le ruote, commenta Adolfo Valsecchi, sindaco di Menaggio. Siamo a un passo della soluzione e non riesco a capire, aggiunge, il motivo per cui ci sia questo braccio di ferro tra regione e governo. Il moto Morstua, vita mea, conclude, non vale quando è in gioco il destino di residenti e utenti del lago di Como. La regione non si sta comportando bene con noi, gli fa eco il sindaco di Colonna, Luciano Soldati. Se non riusciremo a partire con la variante, nemmeno questa volta con due terzi di opera finanziati, conclude con amarezza, non ce la faremo mai. Grazie a tutti.